perdere certamente non aiuta chi ha le prese con un inevitabile processo di crescita e su questo non ci sono di certo dubbi ma quello che il foggia ha fatto a taranto non è tutto da buttare anzi a dirla tutta per un'ora abbondante il foggia non solo non ha sfigurato ma è piaciuto ai più e l'analisi non può non tenere conto di come la squadra di cudini si è presentata all'appuntamento il tecnico ha dovuto rinunciare a gente come garattoni e beretta squalificati come lo stesso friggerio del quale cudini alla vigilia ha ammesso di non conoscere ancora la voce per non parlare poi di carillo tuncarà e vezzoni i primi due schierati dal primo minuto l'argentino arrivato dalla propatria via inter in campo dopo poco più di una decina di minuti dall'avvio per l'infortunio occorso a martini tutta gente giunta a foggia solo poche ore prima del derby dello jacovone e dunque per nulla integrata nel gruppo e nei meccanismi di gioco dell'allenatore marchigiano eppure nonostante tutto come detto il foggia ha provato a dettare i tempi a fare come sul dirsi la partita andando però a sbattere contro il muro della squadra di ezio lino capuano un maestro nel non far giocare l'avversario semmai a lasciare perplessi è stata l'esclusione di peralta dall'undici iniziale cudini ha preferito affidare a schenetti il compito di trequartista coppiando poi tuncarà a tonin per alta e poi entrato nella ripresa ma rinunciare al suo talento non è apparsa obiettivamente una scelta azzeccata la squadra rossonera riprenderà a lavorare intanto da domani accordati due giorni di riposo dopo la sfida col taranto in campo il foggia tornerà lunedì prossimo per affrontare allo zaccheria sempre le 20 e 45 il giuliano per il debutto casalingo che presenta l'occasione per mettere in cascina i primi punti